Ciao a tutti e a tutti! Scusate, sa che è da tantissimo che non pubblico, tipo due mesi, e mi dispiace veramente tanto e non vi dirò da d'ora in poi farò un video a settimana perché ogni volta che lo dico non rispetto mai il patto cercherò di pubblicare insomma il più possibile con una frequenza ordinata non mi viene la parola cominciamo male comunque ringrazio, non mi ricordo i nomi, non ho guardato su youtube però ci sono state due persone che mi hanno chiesto di pubblicare il seguito della Torre Nera e ringrazio queste due persone, mi fa veramente tanto piacere sapere che qualcuno apprezza almeno un po' quello che faccio quindi grazie a voi e riprendo, cerco di riprendere dove abbiamo lasciato allora, un piccolo appunto in realtà sono in Galles, mi sono trasferita in Galles e non ho con me purtroppo i miei libri per cui non vi posso mostrare i libri della Torre Nera non capite la mia disperazione in questo momento non vi posso leggere la trama dietro per cui userò il mio pc dove ho già pubblicato le recensioni della Torre Nera sul mio blog poi vi lascio comunque il link in descrizione se volete andare a vedere il blog la Torre Nera è molto indietro fate conto che ho finito la Torre il 24 di dicembre e non mi sono fatto un bel regalo di Natale sia perché ho finito la Torre e finire una serie che mi ha accompagnato veramente per mesi è stata veramente dura gli amanti dei libri sapranno quando... a volte capita anche con un singolo libro con un libro molto conclusivo, una volta finito ti lascia quella mare in bocca che dici adesso devo riprendere con la mia vita ma tutto quello che ho letto finora non esiste ecco, con una serie che si è portata per 7 libri tipo sulle 5.000 pagine in totale e penso, avevo fatto anche il corto, non mi ricordo o 4.000, non mi ricordo comunque ho iniziato quest'estate, mi sembra, a leggere la Torre ho finito il 24 di dicembre per cui mi ha proprio accompagnato per un bel po' di tempo e finirla è stato tragico appunto sia per il motivo che ho appena detto sia perché alla fine forse dovevo scriverla assieme a King forse dovevo un po' interpellarmi ma proprio non ha voluto il mio contributo per cui ha fatto, ha scritto quella fine però oggi non siamo qui per parlare dell'ultimo libro siamo qui per riprendere dove ce l'avamo lasciati quindi con il quinto libro I Lupi del Calla se riesco, se le mie doti tecnologiche e informatiche me lo permetteranno ne dubito vi lascerò, cioè magari metto sul video poi la foto della copertina vabbè, non so se ci riuscirò comunque appunto I Lupi del Calla siamo al quinto libro il genere è sempre quello siamo sempre sul fantasy con un po' di western avventura e quant'altro e il nostro autore è sempre lui il nostro Stephen King questo libro è stato pubblicato nel 2003 ha 643 pagine quindi è bello potente è bello corposo e vediamo adesso di cosa parla vi leggo la trama rumori di passi sul sentiero del Vettore Roland, l'ultimo cavaliere e il suo bizzarro seguito il giovane Jake, Hoy, Eddie e Susanna cercano di raggiungere la torre per arrestare il disfacimento della realtà ma attraversando le foreste del Calla una regione del medio mondo si imbattono nella tragedia di una piccola comunità rurale sfinita dalle incursioni di un inimico ignoto e spaventoso non sono infatti i predoni comuni quelli che scendono dalle atture circostanti ma creature del muso di lupo che assaltano le case con armi invincibili seminando morte e distruzioni portando via i bambini a cui fanno qualcosa di orribile i quattro pistoleri sono l'ultima speranza per il villaggio si alleano quindi con il veliardo uno che dimostra in essa parecchio e si preparano per una battaglia all'ultimo sangue allora, parto con ultimamente nel mio blog sto analizzando anche diciamo più le caratteristiche estetiche di un libro quindi la copertina, il titolo che solitamente solitamente non mi faccio influenzare da queste caratteristiche nel senso che a volte ho preso in mano libri con una copertina orribile con un titolo che non mi diceva niente ho letto la trama il libro mi ispirava l'ho letto quindi solitamente non mi faccio influenzare però ultimamente ci sto dando sto cercando comunque di darci più peso per capire se la copertina è inerente alla racconto se il titolo c'entra qualcosa con il racconto perché ci sono libri che hanno di quei titoli che non c'entrano assolutamente nulla e va bene oppure che non sono originari che insomma tante cose quindi cercherò adesso di fare anche questo anche nei video di youtube la copertina di questo libro mi ricordo che non mi ha fatto proprio impazzire tantissimo rispetto ad altri ai libri precedenti insomma non mi è piaciuta tantissimo e mentre il titolo sì nel senso i lupi del calla cosa volevo dire cos'è il calla anche perché per chi di voi insomma ha letto la torre calla e parole simili si sono si ripetono spesso quindi ero curiosa di capire che significato potesse avere il calla che legame potesse avere con altre parole e tutto quanto ero veramente curiosa ero veramente poi curiosa di scoprire cioè questi lupi ma erano lupi veri cioè strano per cui il titolo mi ha incuriosito un sacco la copertina non mi ha entusiasmato la trama secondo me è appropriata sì la trama è appropriata non fa particolarmente non fa particolari spoiler non racconta chissà che è giusto insomma sì direi che la trama è appropriata per questo libro ci sono dei libri invece che in cui la trama secondo me allora a parte che sapete a me di spoiler non dava fastidio però ci sono comunque dei libri che dal mio punto di vista raccontano la trama racconta anche un po' troppo potrebbe essere un po' più vaga in questo caso direi che secondo me è appropriata insomma non raccontare troppo non è troppo poco va bene passiamo quindi al racconto in questo libro c'è un prologo in cui ci viene presentato Tian scusate se ho dei tentenamenti ma veramente ci hanno letto mesi e mesi fa e ho una memoria da criceto senza offesa per voi criceti quindi se tentenno è per questo comunque nel prologo ci veniva presentato Tian e mi ricordo che mi aveva fatto una buonissima impressione tanta che viene proprio descritto come una persona diciamo un po' più intelligente rispetto agli altri abitanti del Kalla perché il Kalla è una regione del Medio un prologo a me era piaciuto tantissimo Tian tant'è che mi ha fatto delle buone aspettative delle alte aspettative pensavo che avesse un ruolo importante durante tutto il libro in realtà non è che abbia avuto tutto sto gran ruolo nel libro è stato un po' marginale tra l'altro Eddie lo descrive spesso come uno zappaterra perché lì sono tutti contadini alla fine questa cosa non si dice perché venendo dalla campagna a Eddie caro magari te lo ti interessa a terra ma comunque quello che voglio dire è che anche agli occhi di Eddie non è che Tian sembrasse questo acume di intelligenza no e infatti durante poi me ne sono resa conto dopo che alla fine del libro ho detto ma che cacchio però nel prologo era descritto come insomma uno che ci arrivava anche in realtà a me sembra abbastanza della media vi dirò anzi che ci sono dei personaggi durante questo libro che secondo me erano anche un po' più intelligenti di Tian cioè secondo me Tian era un ingenotto ok che abbia avuto la brillante idea di andare contro i lupi cioè bisogna darne atto per carità tutti i fifoni però lui niente voleva contrastare i lupi sicuramente su questo non l'ha da dire però mi aspettavo comunque un ruolo un po' più importante è sempre stato un po' sullo sfondo a parte in alcune parti ma niente di che quindi rispetto al prologo mi aspettavo un po' di più mi aspettavo fosse il boi il quinto eroe beh considerando Eddie Jake Susanna poi quindi no poi è un eroe per cui il sesto eroe dell'attore almeno in questo libro invece invece no invece no poi ci viene presentato un personaggio che scoprirete sarà molto molto importante che è Padre Callan vedete Calla Callan cioè King sei un cazzo di genio e mi ricordo che in questo libro Padre Callan mi ha incuriosito tantissimo cioè qua tirano fuori i bambini ragazzi cioè assolutamente inaspettato di trovarmi dei bambini in questo tipo di racconto ho visto mai avevo pensavo di aver visto di tutto invece no sono ancora finito le sorprese i bambini quindi assolutamente Padre Callan mi ha incuriosito tantissimo ed è stato un buon personaggio parlo anche corseno di poi avendo già letto tutti gli altri libri l'ho amato l'ho amato l'ho apprezzato l'ho apprezzato molto non l'ho amato a livelli degli altri però l'ho apprezzato molto è stato un bel personaggio e chi ha letto altri libri di King forse Padre Callan l'ha già incontrato in questo libro poi emerge ancora di più il chiamiamolo potere di Jake il tocco il tocco che c'era già stato diciamo introdotto da Roland quando ho parlato di Elaine ed è veramente secondo me è un bel potere sempre con virgolette ok quando dico potere prendetelo con le pinze perché non è solo la capacità di leggere banalmente leggere nella mente degli altri ma proprio di sentirli sentire anche se sono a chilometri di distanza sentire i loro sentimenti cosa provano se hanno paura se sono felici se sono in pericolo e questo grazie a quel legame che c'è tra questi cinque personaggi cioè è veramente una cosa a me è piaciuto veramente tanto questo aspetto del tocco ed è una cosa che mi piacerebbe avere più del leggere nella mente di per sé proprio sentire cosa prova la persona o le persone con cui sono maggiormente legata affezionata sapere che loro stanno bene anche se sono a chilometri di distanza cioè ti fa star bene così come aspetto negativo sapere se loro stanno male anche se sono a chilometri di distanza è una bella cosa puoi non lo so organizzarti ok affrontare cose forse in modo diverso mi piace mi è piaciuto molto e Susanna qui c'è un'altra personalità e la cosa mi ha dato un po' di fastidio perché a me che il discorso è più complicato di così non è semplicemente un'altra personalità e questo però l'ho scoperto non davanti con la lettura e qui Susanna c'ha semplicemente un'altra personalità e che il mio primo pensiero è stato ancora King Madonna c'è tutta la fantasia che c'hai dovevi proprio metterci un'altra personalità in mezzo cioè è appena guarita e tu mi metti un'altra personalità no inventati qualcos'altro King il libro mi è sicuramente piaciuto però piccola critica cioè sono 643 pagine ok tutte di diciamo preludio per arrivare alla battaglia contro sti benedetti lupi se arriva la battaglia abbiamo 5 pagine di battaglia cioè voglio dire un po' di più cioè è stato proprio babà un lampo uno scocchiare di vita e la battaglia è finita è iniziata ed è finita e che cacchio cioè mi sono letta 600 pagine magari ma anche 10 15 pagine di battaglia di scontri capito 5 pagine è stato un po' triste solo 5 pagine un po' di più sarebbe stato male no? da qui da questo libro ho iniziato veramente a pensare King sei un fottuto genio e questa frase ragazzi l'avrò ripetuta un milione di volte da qui in poi veramente è stato dovete dare atto al genio di King io ho sempre apprezzato i suoi libri ne ho letti tanti ma nemmeno troppi considerando tutta la sua biografia e veramente ma con la torre è stato un vero un vero genio ma proprio capire che la torre racchiude se non tutti ma tanti veramente tanti analogie con i suoi libri ok? e anche con altri con altre opere di altri autori con i suoi libri un esempio c'è padre Callan ok? con altri autori in questo libro troviamo riferimenti a Harry Potter a Star Wars mi pare sì abbiamo come armi nella battaglia ci sono le bocce quelle del del Quidditch ok? di Harry Potter e Spade Laser di Star Wars cioè beh finché leggevo era una cosa geniale geniale ma proprio scritto tra l'altro cioè c'è proprio la targhetta che ho scritto adesso mi ricordo con precisione ma Harry Potter boccino numero tatatatata cioè geniale cazzo sembrava tipo fabbricato capito da Harry Potter non lo so è stato fichissimo man mano che si lesevano queste cose dicendo ma questo è un genio che è stato in Harry Potter e qui c'è Star Wars no è un figo è un genio è è il top poi i lupi sono stati una scoperta pazzesca da quando la gente del Calla descrive i lupi a Roland e agli altri Roland mi sembra che sia Roland è il primo a dire ah che cazzo sono tutti i gritti come abbiamo fatto a non arrivarci prima e io dicevo beh sono degli lupi è che poi anche Eddie c'è arrivato è che mi ha dato la stigione tutta Eddie non può arrivarci prima di me odio dire non è che sia stupido però Eddie è più burlone nel gruppo non lo so non si avrebbe detto che ci fosse arrivato prima di me devo dire comunque che mi ha battuto di poco perché nel momento in cui ci è arrivato Eddie ho detto cacchio adesso ho capito i lupi cosa sono non ci posso credere la chicca finale volete sapere la chicca finale di questo libro King mette dentro King nel suo libro c'è c'è lo scrittore c'è King lo scrittore in questo libro in questo libro e negli altri libri King mette dentro se stesso parla di se stesso come scrittore c'è io non ve lo posso descrivere non potete secondo me capire dal mio video cosa vuol dire ma c'è ha parlato di se stesso ci ha messo dentro se stesso come uno dei personaggi del libro e siamo al quinto e lo troveremo per altri due libri quinto sesto settimo è stato un genio è stato un genio qui veramente da questo libro potete dirlo anche voi King se è un fottuto genio magari lo direte un pochettino io l'ho odiato un pochettino in alcuni punti sia il vero scrittore sia lo scrittore che c'è nel libro però è un genio c'è poco da fare ragazzi veramente dovete leggere questa saga perché vi si apre un mondo vi si apre un mondo bene direi che ho parlato abbastanza come il mio solito scusatemi ancora se ci sono stati degli spoiler veramente involontari che poi io quando ho cominciato a parlare dei libri non mi fermo più si ho questo problema che quando parlo di libri poi io non mi fermo più non mi rendo conto di dire spoiler o cose così mi dispiace spero di non avervi detto tutto tanto però comunque voi i lupi del caldo l'avete già letto no? cioè sono passati due mesi da quando ho pubblicato la sfera del buio quindi in questi due mesi voi avete letto i lupi del caldo vero e niente spero prima possibile di pubblicare anche la canzone di Susanna io cercherò di pubblicare un video a settimana cercherò e niente casomai poi vi lascio il link qua sotto se mi ricordo non solo del blog ma anche proprio dell'articolo del blog dove parlo appunto dei lupi del caldo e niente ah comunque a questo libro ho dato voto 8 e poi più avanti in realtà con i prossimi libri cioè con quelli della torre ancora è così però con le altre recensioni che ho fatto nel blog sono passata a dare i voti da 0 a 5 ok? ci stavano un po' di stravolgimenti più avanti stravolgimenti neanche va bene però ecco e niente spero di vederci presto fatemi sapere se avete letto il libro cosa ne pensate voi fatemi sapere cosa pensate di questa recensione se siete d'accordo se non siete d'accordo e io sono sempre veramente felicissima di leggere i vostri commenti e di sapere cosa ne pensate voi e veramente avere un input da parte vostra per me è veramente tanto significa veramente tanto quindi spero che di leggere qualcosa di vostro qualche vostra opinione e niente ci vediamo nel prossimo video ciao ciao